Salve a tutti, oggi parleremo della Testa di Seneca di Guidoreni. Carlo Cesare Malvasia, nella Felsina Pittrice, attribuisce quest'opera a Guidoreni e probabilmente da anche una datazione prima del 1614, proprio perché è possibile riscontrare anche una serie di visi che assomigliano per l'appunto a quelli della nostra Testa di Seneca, che sono presenti nella Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore. Va però contestualizzato il momento storico in cui quest'opera viene realizzata. Infatti nella Roma del primo seicento vi è una grande diatribe, un grande scontro tra chi ritiene che gli artisti debbano ispirarsi direttamente alla natura e chi invece ritiene che sia maggiormente importante che gli artisti guardino all'antico imitando per l'appunto quello che l'antico ci ha tramandato. Con questa terracotta Guidoreni prende le distanze da quel naturalismo che invece aveva caratterizzato la sua produzione appena arrivato a Roma, grazie soprattutto al contatto che lui ha con l'opera di Caravaggio, per schierarsi per l'appunto all'interno di questa diatribe intellettuale invece con la supremazia dell'antico. Questo suo avvicinamento al classicismo però è possibile riscontrarlo anche nella produzione grafica, tanto che Karel Van Mander a un certo momento conia per Guidoreni la definizione di bellissimo dal bello, quasi a voler puntualizzare come per appunto per lo stesso Guidoreni nella produzione artistica di Guidoreni la bellezza fosse possibile solamente derivante dall'antico. Malvasia afferma che la testa di Seneca è in realtà uno studio che Guidoreni fa grazie a uno schiavone di Ripa che oggi purtroppo è andato perduto, ma non solo, afferma anche che questa testa camminava per le varie accademie, quindi per le varie botteghe della città di Roma, proprio quasi a sottolineare come quest'opera fosse l'esempio a tutti quelli naturalmente che fecero del classicismo e della ripresa dell'antico la linea fondamentale della loro arte. Infatti per molti studiosi la ripresa in alcune opere di questa testa o delle sembianze di questa testa stanno quasi a sottolineare come la paternità sia vicino per l'appunto all'artista bolognese. Beh inoltre sottolineato come questa testa fa da contraltare a un'altra testa di vecchio, diciamo così o meglio di vecchia, che viene rappresentata in quegli anni e che rappresenta veramente uno studio incredibile su questo tema, ovvero sto parlando della vecchia megera che viene rappresentata nella giuditta che decapita Oloferne di Caravaggio. Ecco quindi che all'interno della diatriba tra ripresa dalla natura o ripresa dall'antico il tema della rappresentazione della testa di vecchio diventa esemplificativo. Da una parte infatti abbiamo la natura di Caravaggio, il naturalismo di Caravaggio nella megera, dall'altra invece abbiamo la ripresa del classicismo di Guido Reni appunto nella testa di Seneca. Per quello che riguarda la testa di Seneca naturalmente viene ideata con una grande attenzione al modellato che diventa quasi pittorico, soprattutto con la rappresentazione delle rughe, soprattutto nella parte posteriore ovvero quella della nuca. Ma è molto interessante anche il taglio stesso che viene dato a questo busto che si ferma diciamo così fino sopra le clavicole con gli occhi alzati quasi a dare una maggiore disperazione a quella che è la rappresentazione del vecchio stesso. Per ultimo una considerazione che però è molto importante secondo molti studiosi giustamente la paternità di Guido Reni per quest'opera da mettere in dubbio non tanto per il modellato quanto per la poca testimonianza delle opere scultore attribuibili a Guido Reni nonostante insomma nelle fonti antiche, Malvasia stesso lo dice, fosse considerato anche un grande scultore. Io vi ringrazio, alla prossima puntata! Grazie a tutti! Ciao! Ciao!